Perché Autostrade per l'Italia comunica che alle 21.15 sull'autostrada in questione è stato chiuso il tratto a Vellino-Ovest-Baiano a seguito di un incidente a chilometro 32 nel quale un pullman, sopraggiungendo in velocità, è caduto sotto in questo viadotto. A quanto pare c'era un rallentamento di traffico, il rallentamento era stato segnalato sia dai pannelli a messaggio variabile che dal personale sul posto. Questo autobus è arrivato a grande velocità e ha tamponato una serie di autovetture e queste sono le comunicazioni di Autostrade che appunto dice che quel rallentamento, vi abbiamo raccontato infatti di una serie di tamponamenti di questo autobus che ha impattato contro molte vetture, qui le vedete insomma nelle immagini, sono inequivocabili. Questo rallentamento era stato segnalato da Autostrade per l'Italia, quindi questo fa effettivamente pensare che ci possa essere stato un problema all'impianto dei freni del veicolo, come hanno testimoniato le persone che si trovavano all'interno di questi automobili che sono state prese in pieno dall'autobus che vedete. Noi ci torneremo con queste immagini che...